Ragazzi con le dici Allora, 3, 2, 1 Bella a tutti ragazzi Perché griffi tutto? Bella così, no? Vabbè Ah, perché c'è qualcosa sopra Mi fate registrare? Ma che cazzo fa? Pasqua, siamo qua, ok 3, 2, 1 Bella a tutti, ora mi si è spento lo schermo Ok, si è receso 3, 2, 1 Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video Oggi siamo qua con Z Pasqua e Firejump Ciao a tutti Ciao Non hai mai Cioè, ho non o mai Quindi là è scritto sbagliato La scritta è sbagliata No, è, perché? Comunque Cosa fai? Perché? Sì, non ho visto niente Vai, tutti sulle proprie corsie Ok E' entro, spiega il gioco Eh, no, spiegalo tu perché non so come si gioca Vai, va, va, spiega Ti ho capito? Allora, le regole del gioco Come potete vedere Ci dito Non ho mai Quando una persona farà una domanda E quando voi avete fatto quella cosa Nella vostra vita Dovete rimanere fermi Se invece non l'avete mai fatto Dovete andare avanti Il primo che arriva là vince E Bestia Gli piace sboccare Cose Sto vomitando Quindi in teoria Chi arriva ultimo là in alto Farà la penitenza Dovrà cantare una canzone Scelta dal nostro Such speed Fermo Eh, cosa? Dal nostro such speed Madonna mia La nostra ragazza è rifiutata Posso bannarlo? Fermo Posso bannarlo? Fermo Eh, che va È una gara, dai Ok Inizia Pasqua, vai Server offerta da Gamehosting Ho trovato il link in descrizione Non ho offerto un cazzo a nessuno Vai Inizio io Non ho mai giocato a me No, stavo scherzando Allora Non ho mai Picchiato una bambina Vai, c'è casino Non ho mai picchiato una persona più piccola di me Ok Io sono quelle più grandi Oh, dabba Io non ho mai picchiato nessuna a questo punto Oh, addio Ho la clara Allora Non ho mai fatto skipboard E poi sono caduto Oh, raga, ma guarda che t'azzeccato Io ho fatto skipboard una volta Sono pascato e mi sono sbucciato tutto il ginocchio Però devo sangue e lo spedicento Diciotto E' come da cento diciotto User join your channel Ok Non ho mai Non ho mai Chegato in giardino Eh ma sei questa No, non ti fai Pasco Dai, poveri Non ho mai fumato marihuana Non ho mai fumato marihuana Non ho mai fumato marihuana Pezzi di merda Non lo so qua Non sono mai stato beccato da mia madre mentre che mi segavo Tutu No, pure mai Tocca a me No, tocca a Fargent A me Ma perché è così avanti lui? Ragazzi, queste cose che diciamo non sono vere quindi Per favore Eh, sì, sì Non mi hanno mai scoperto in fumo E' mia mamma mi guarda questo video e mi suicida Vuol dire Bucciardo Cos'è che è stato? Non mi hanno mai scoperto Lo sanno ma non mi hanno scoperto Glielo detto io Cos'è cosa Fargent? Fargent Non mi hanno mai scoperto in fumare Io non fumo Ho 14 anni Non ho mai distrutto lo scivolo della mia città Il cosa? Lo scivolo della città? Lo scivolo Un amico a casa Un amico mi sarà da quando non c'è La mia stacca non ho mai un silindro non ho mai ma come ha così vinto fai qualcosa per fermarlo zio fai qualcosa per fermarlo non ho mai eh che ne so io cosa ha fatto non sono mai stato modblas eh no ma così non vale non vale non sono mai stato non sono mai stato helper di merda eh 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 takami? eh no no ma io sono stato helper su ghost world e poi so passato indietro indietro ehm non ho mai mangiato cibo del nord ma io abito al nord io sono del veneto e come puoi fare questa domanda che poi i cibi sono uguali i cibi sono uguali no no la pizza a napoli non esiste come quella del nord ma è sempre uguale è sempre pizza no la pizza del nord è più buona è più buona quella al nord l'abbiamo inventata noi la pizza cazzo a me è la più buona quella al nord eh sì al nord c'è quella con i quattro formaggi che è buona come è la napoli eh eh quella come è ehm non ho mai non ho mai visto batman come non hai no ma io l'ho visto batman io no mai è impossibile non ho mai visto batman in tutta la mia vita è impossibile non ho mai visto batman in tutta la mia vita mi fa schifo ma è impossibile mi fa schifo batman vergognati allora l'hai visto qualche volta dietro non ho mai visto hai detto che ti fa schifo vuol dire qualche batman in tutta la mia vita giuro mica mi face la domanda la solida che ho fatto indietro eh ehm dovrei essere un qualità di dato mentale comunque eh non ho mai bevuto fino a cadere a terra tocca a bestia no tocca a bestia non ho mai avuto un letto doppio un letto matrimoniale guarda tocca a me eh eh ehm non ho mai bevuto fino a crollare vinto ma è ma nemmeno che è l'ultimo no ma nemmeno si è arrivato l'ultimo ho 14 anni zio Enzo sei arrivato l'ultimo ehm non ho mai avuto una sorella che mi picchiava povero bestia volevo non me io picchiavo lei non scherzo non sto scherzando facciamo un altro round oppure Mertia canta subito no no canta subito ragazzi questi mi vogliono male a cantare a che ragazzi questo video è tutto devi cantare devi cantare no ah quantina quantina poi non lo so ah ok ma cosa fa ai vasco ahahah ragazzi questo è un'altra mappa ragazzi 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 uccidetessi qua che griffano la mappa eh infatti raga uccide prima che griffano la mappa oh uccide come griffare la mappa su non la mappa questo uccide se hanno griffano la mappa hai trovato il titolo di sto video come griffare la mappa su porta hanno griffato la mappa ragazzi 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 hanno griffato la mappa no ma sei asciutto enzo e niente ragazzi per questo video è tutto noi vai ok ragazzi con questo video è tutto ma perché sei uscito Pasco eh secondo te cioè vabbè chiudiamo il video senza te ok ragazzi zitto 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 dai seri seri ok ragazzi per questo video è tutto noi ci becchiamo in un prossimo video entrate su titan games quindi mc.titangames.net lì più lo trovate nella descrizione bello a tutti ciao a tutti ciao ciao ecco ciao 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 Grazie a tutti